Torniamo in Italia per un'importante operazione delle forze dell'ordine contro la Camorra. Fermata l'ascesa di un clan che voleva mettere le mani sui finanziamenti Covid. Volevano mettere le mani su finanziamenti pubblici destinati a misure per la ripresa post-pandemia instaurando sul territorio toscano un sistema di stampo camorristico. Dalle prime ore di questa mattina sono scattate perquisizioni e misure cautelari nei confronti di 13 persone nell'ambito di un'operazione di polizia e guardia di finanza condotta dalla Direzione Distrittuale Antimafia Fiorentina e coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia. Grazie a questa operazione abbiamo impedito che questa propaggine della Camorra Salernitana in particolar modo della zona di Nocevra Inferiore potesse estendere i suoi tentacoli nella città di Firenze. Il quartier generale delle attività criminali era una pizzeria di Firenze e si è acquistata con false attestazioni all'inizio della pandemia. Il 23 febbraio davanti all'entrata era esplosa una bomba carta. Era un attentato che è stato consumato a causa di una faida intercorsa tra questo gruppo di questi soggetti che noi abbiamo tratto in arresto in questa operazione e un'altra compagine. È qui che i membri del gruppo si ritrovavano per decidere operazioni, stoccare e ricettare i proventi delle attività illecite. Vendevano anche falsi contratti a cittadini stranieri facendoli pagare 1.500 euro. Le stesse false credenziali erano state utilizzate per ottenere finanziamenti per 32.000 euro sfruttando le misure d'emergenza Covid a sostegno delle imprese in difficoltà. Bloccata l'erogazione di ulteriori 90.000 euro, gli indagati sono accusati a vario titolo di reati che vanno dall'associazione mafiosa al porto abusivo di armi ed esplosivi al riciclaggio. Oltre alle province toscane, le indagini sono in corso anche nelle città di Salerno, Latina, Verona e Potenza.